La seduta è aperta. Buongiorno. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Greenpeace Italia, Italia Nostra, Chiotto Club, Lega Ambiente e Transporte ed Environment nell'ambito della discussione delle risoluzioni CASU, Raimondo e Ghirra, recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale. Avverto che l'audizione, ovvero non vi siano obiezioni da parte degli auditi, sarà trasmessa sulla web tv della Camera dei Deputati. Ricordo che gli interventi in ciascun rappresentante dovranno essere contenuti in un tempo a massimo 5 minuti. Cedo quindi loro la parola a cominciare a Federico Spalini, responsabile della campagna trasporto e clima di Greenpeace Italia. Prego. Benvenuto in commissione. Sì, salve. Buongiorno a tutti e a tutte e grazie per l'invito a queste audizioni. Innanzitutto da parte di Greenpeace accogliamo con favore il fatto che sia appunto attiva che presenta una discussione sul trasporto pubblico locale in quanto driver per una mobilità più sostenibile, per un discorso relativo alla riduzione delle emissioni climalteranti e anche in riferimento a degli aspetti di inclusione sociale che abbiamo trovato appunto fra i testi sottoposti prima di questa audizione. Non c'è bisogno diciamo di ripeterlo ulteriormente, ma sappiamo appunto che il settore dei trasporti è un settore in cui il processo di decarbonizzazione di riduzione delle emissioni sta andando particolarmente a rilento. In Italia, ma in generale diciamo in tutta Europa, è l'unico settore in cui le emissioni sono in crescita a partire dal 1990 rispetto agli altri settori e all'interno diciamo di questa fetta di emissioni climalteranti causate dal settore dei trasporti tra il 25 e il 30%, diciamo, quindi una fetta considerevole, che moltissime sono attribuibili al trasporto su strada, quindi sicuramente una riflessione sul trasporto pubblico deve essere fatta anche a riferimento a questo, come il trasporto pubblico può disincentivare, in un certo senso diminuire il peso della mobilità privata, su strada in particolare e come altri dati di contesto sappiamo che appunto viviamo ormai in una fase di post-pandemia in cui i modelli di mobilità sono cambiati e c'è una necessità oggettiva appunto da un punto di vista climatico ma anche ambientale di vivibilità delle città di ridurre il numero di auto e del trasporto privato che è in circolazione. Per questo il trasporto pubblico locale ci può aiutare. In questo mio breve intervento vorrei focalizzarmi su tre punti di attenzione che Greenpeace ritiene particolarmente fondamentali ai fini della discussione su questo tema. Il primo è quello in riferimento al biglietto climatico, ai cosiddetti climate ticket che in Europa si stanno diffondendo sempre di più in molti paesi e ci sono anche dei dibattiti politici in corso su dei biglietti che possono garantire l'utilizzo di servizi di trasporto pubblico addirittura fra più paesi. Sono indubbiamente una leva per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale rendendolo più accessibile. In Europa appunto ce ne sono alcuni di famosi, quello della Germania su tutti, la Spagna pure nello scorso anno ha sperimentato i biglietti climatici, cioè biglietti molto economici, facilmente acquistabili e facili da gestire che possono permettere l'utilizzo di diversi tipologi di trasporto pubblico su un territorio delimitato che molto spesso era il territorio nazionale. In Germania sono stati venduti nella sola sperimentazione dell'anno scorso 27 milioni di biglietti e è stato calcolato un risparmio di quasi 2 milioni di tonnellati di CO2 solamente per la prima fase, tant'è che la Germania ha deciso poi di rinnovare aumentando il costo del biglietto ma tenendolo comunque competitivo. Greenpeace ha prodotto un report proprio per classificare la performance dei paesi europei e delle capitali europee in termini di accessibilità da un punto di vista economico e di costi e di facilità di accesso al servizio. Non c'è da sorprendersi che l'Italia, non avendo ancora un dibattito interno sulla possibilità di attivare un biglietto climatico, risulti tra le ultime in classifica e questo per dire che il primo punto con dei biglietti economici, universali, nel senso che si possa utilizzare sui nazi di trasporto e su più territori e facili da acquistare e da gestire sono sicuramente un punto di attenzione. Il secondo punto di attenzione ovviamente non serve solamente accessibilità economica ma servono innanzitutto dei servizi funzionanti, anche qua faccio riferimento ad un report che Greenpeace ha pubblicato in Europa e in Italia qualche giorno fa in cui abbiamo analizzato qual è il trend degli investimenti di tutti i paesi europei circa negli ultimi 30 anni, a partire dal 1995. In particolare i soldi che sono stati messi sulle infrastrutture ferroviarie, simbolo di una mobilità sostenibile a basse emissioni, contro quelli che sono stati messi sulle strade e autostrade che sono appunto, come abbiamo detto, che hanno un peso notevole per quanto riguarda le emissioni di gas serra. Riassumendo, i dati sono tanti ma negli ultimi 30 anni in Europa sono stati costruiti più di 30.000 km di autostrade con un incremento del 60% mentre la rete ferroviaria si è ridotta di 15.000 km, quindi andando addirittura a perdere la copertura. In Italia la tendenza è simile perché il nostro paese ha investito negli ultimi 28-30 anni il 28% in più sulle strade rispetto a quanto ha investito sulle ferrovie e nonostante il fatto che la rete ferroviaria italiana sia cresciuta di qualche punto percentuale a parte dal 1995 ovviamente sotto la spinta degli investimenti per l'alta velocità, questa è venuta di scapita delle linee regionali. Dal 1995 ne sono stati chiuse 40 e sono stati persi circa 1800 km di ferrovie. Scusate, penso che mi sentite sempre, mi è arrivato un avviso dal sistema. Proseguo e vado verso la conclusione. Ovviamente questo è esemplificativo di come vengono investiti i soldi, le risorse economiche e di come vengono decisi gli investimenti fra reti ferroviarie e reti stradali e autostradali. Ovviamente il trasporto su ferro è un driver importante del trasporto pubblico, per il trasporto pubblico non è l'unica forma per incentivare il trasporto pubblico, però è importante anche analizzare questo trend per vedere appunto come spesso anche delle infrastrutture, le grandi infrastrutture anche dell'alta velocità, sono state potenziate a discapito poi dei collegamenti regionali, dei collegamenti per coprire le aree interne che ho notato, sono più volte menzionate nei vari documenti che si riferiscono appunto a questo ciclo di audizioni. L'ultimo punto su cui vorrei portare l'attenzione si riferisce in particolare alla città di Roma, anche qua perché l'audizione prevedeva anche un focus sulla situazione del trasporto pubblico a Roma e nel 2021 Greenpeace ha pubblicato un report per analizzare la situazione della mobilità nella capitale appunto a Roma e ovviamente il trasporto pubblico ha un grande peso all'interno di una città come Roma, siamo andati a valutare per stabilire se la mobilità romana fosse o no sostenibile una serie di indicatori, fra cui alcuni indicatori appartenenti alla sfera, afferenti alla sfera del trasporto pubblico. Ne è venuto fuori un quadro che non ci sorprende perché sappiamo come dire qual è la situazione del trasporto pubblico a Roma, però in cui praticamente assegnando dei punteggi solamente 32 delle 155 zone urbanistiche che compongono capitale erano sopra la media in termini qualità del servizio del trasporto pubblico e uno degli insight che emerge da questo report è ancora una volta il grande divario fra la qualità del servizio del trasporto pubblico nel centro della città e quello in tutte le aree periferiche, che è un tema appunto che ritorna e che risuona con quanto prima abbiamo appena detto rispetto alla necessità di tutelare e garantire un servizio alle aree interne del paese, la stessa cosa diciamo nelle aree meno centrali avviene anche in una città come Roma. Mi appesto concludere ricordando che ovviamente la riforma del settore dei trasporti e la mobilità italiana deve essere composta da diversi tipologie di interventi, alcuni saranno inevitabilmente di natura tecnologica per esempio l'elettrificazione delle flotte anche del trasporto pubblico, altre potranno riguardare più una sfera come dire sociale o culturale per quanto riguarda la progettazione della nostra città, la necessità di diminuire la domanda di spostamento, ma devono esserci innanzitutto interventi per garantire il cosiddetto shift modale, cioè il passaggio da mezzi, da una forma di mobilità più inquinante e più impattante dal punto di vista ambientale e climatico a mezzi che sono a zero emissioni o a basse emissioni in modalità di trasporto, a basse emissioni appunto come il trasporto pubblico e tutte le altre forme di mobilità pubblica inclusiva e a basso impatto ambientale. Grazie mille. Grazie, grazie a lei. Facciamo a Massimo Montebello, prego. Buongiorno. Al microfono spento. Mi sentite? Sì, benissimo. Perfetto. Buongiorno a tutti. Una delle prime cose che vorrei mettere in evidenza è che non tutte le aree, parliamo dell'Italia, ma possiamo parlare del mondo, dell'Europa, di quello che volete, non tutte le aree sono uguali. Questo che cosa significa per quanto riguarda la visione mia a nome di Italia Nostra? Vuol dire che ogni contesto ha le sue esigenze e i suoi problemi. semplifico. Roma non è Milano, Milano non è Vicenza e Vicenza non è, che ne so, Gela. Questo che cosa significa? Significa che è difficilissimo riuscire a intravedere un qualche cosa che possa sistemare tutte le problematiche di ciascuna area dove si necessita del TPL. Ciò premesso significa quindi che non si può generalizzare attraverso una normativa generale come finanziare, ma si può semplicemente pensare che, ammesso che ci sia un fondo a cui fare risorse, a cui attingere risorse per il trasporto pubblico locale, tale fondo deve essere comunque esaminato da una generazione centrale, mi riferisco al Ministero, affinché si possa evidenziare il fatto che le esigenze di Roma sono diverse dalle esigenze di Milano. Questa cosa qui non è tanto dal punto di vista del territorio, che ne so, i problemi dell'archeologia che non sono a Roma come a Milano. No, non è tanto quello, ma è proprio la considerazione che anche a livello tecnologico le offerte non sono equiparabili da nessuna parte. Però in Italia Nostra è famosa per aver combattuto per esempio il filo aereo nella trazione elettrica tramviaria, i filobus in particolare, ma in Italia Nostra si è per esempio convinta che l'adozione della trazione elettrica attraverso le batterie sia assolutamente più inquinante che non quanto sia il filo elettrico. Perché faccio questo problema? Perché mentre in qualunque altra circostanza il problema del filo viene visto con situazioni di minore discussione, nel caso di Roma l'attraversamento della parte storica, l'attraversamento di zone di interesse archeologico storico pone subito questa evidenziazione del fatto che non si debba mettere il filo aereo. Facciamo l'esempio delle metropolitane, la linea C è nota a tutti, la situazione della linea C, ma ne contemporaneamente si può fare il discorso a Milano hanno fatto quello, quello, a quell'altro, a Roma siamo leggermente indietro. Quindi vuol dire che non tutte le situazioni sono equiparabili. Ciò premesso, credo che nel caso particolare di Roma, il Ministero debba accendere il focus in maniera diversa rispetto al resto delle città italiane, delle aree italiane, perché il caso Roma, per così dire, si trascina ormai da una trentina d'anni e ci ritroviamo a non riuscire a fare quello che era stato promesso per il giubileo del 2000, nemmeno per il giubileo del 2025. Ora, 25 anni di ritardo sono un tempo inestimabile lì dove le tecnologie, si fa per dire, dovrebbero avere una obsolescenza intorno ai 5-10 anni. Chiudo semplicemente dicendo questo, ribadendo il concetto. Per affrontare TPL dobbiamo vedere in maniera diversa le zone italiane in cui si va a fare TPL. In particolare Roma, il nodo di Roma, le ultime situazioni lo hanno dimostrato a tutti i livelli, a livello di tram, a livello di metro, a livello di ferrovie, sono stati risultati molto scarsi. Grazie. Grazie a lei. Passiamo quindi a Marco Talluri. Prego. Buongiorno a tutte e tutti. Rapidamente il tenuto punto dei 5 minuti. Intendiamo sottolineare come il trasporto pubblico locale sia una componente indispensabile. Al di là delle idee diverse che ci possono essere, senza un trasporto pubblico efficiente, efficace, la mobilità nelle nostre città non può essere assicurata. Veniva ricordato l'elevato tasso di motorizzazione, il più alto in Europa presente nel nostro paese, che determina livelli di congestione del traffico e di inquinamento atmosferico elevatissimi. Nella memoria che presentiamo indiciamo alcuni dati, ad esempio quelli fornite dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, che ci dice che solo per l'esposizione al biossido di azoto, che è un inquinante fortemente correlato con il trasporto su strada, in Italia nel 2020 ci sono state più di 11 mila persone che sono morte prima del dovuto. Questo significa e ci indica con forza che abbiamo necessità di un forte trasporto pubblico che non sia una scelta obbligata, ma che sia una scelta dovuta alla quantità e qualità del servizio messo a disposizione dei cittadini. Può sembrare un'utopia, in realtà non lo è. Se andiamo a vedere là dove il servizio di trasporto pubblico assicura regolarità e rapidità di collegamenti, i cittadini lo scelcano. Io sono fiorentino, faccio l'esempio della linea 1 del tram di Firenze che collegava la stazione di Santa Maria Novella con Scandicci, che nel 2011 ha sostituito le vecchie linee di autobus. Ebbene, nel giro di pochi anni quella linea trasporta più di 20 milioni di passeggeri l'anno a fronte di un milione di passeggeri trasportati in precedenza dalle linee di autobus che garantivano gli stessi collegamenti. E nessuno ha costretto le persone a andarci. L'hanno scelto. Credo che questa sia la strada che dobbiamo seguire con grande forza. Una scelta che significa però investire sul trasporto pubblico. Investire sul trasporto pubblico significa garantire un'offerta adeguata. Che cosa è successo negli anni? Ce lo dice la Cassa Depositi e Sprestiti, c'è scritto nella memoria, tra il 2010 e il 2012 sono state tagliate circa 1,4 miliardi di risorse dal Fondo Nazionale dei Trasporti al trasporto pubblico. Cosa è successo? In questi anni è diminuita, laddove le regioni non avevano risorse o non hanno voluto mettere a disposizione risorse a disposizione del trasporto pubblico, il servizio è diminuito. Si parla di Roma. A Roma fra il 2010 e il 2021 è diminuito del 14%, a Palermo del 24%, a Napoli del 32%. Solo in alcune città, in particolare Milano più 14% e Milano più 8%, la tendenza è andata diversamente, ma anche per la presenza, perché l'offerta di trasporto pubblico è fortemente legata a una presenza di reti non inquinanti, metropolitana, tram e filobus. A Milano, ad esempio, il 79% del servizio del 2021 è stato assicurato con queste. Chiaramente hanno una capacità di trasporto estremamente superiore a quella degli autobus. E allora, quali sono i tre messaggi che mandiamo come Chioto Club? Primo, occorre investire in modo strutturale sul trasporto pubblico locale. Investire in trasporto pubblico locale in modo strutturale significa farlo con decisione, con forza e nel tempo, perché non occorrano spot momentane. I risultati ci daranno dei co-benefici anche in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico, quindi di minore impatto sanitario e di vivibilità delle nostre città. E quali sono i tre filoni su cui intervenire? Il primo è quello dell'investire sulle reti. Vedo in collegamento l'amico Andrea Poggio di Lega Ambiente, è un messaggio tradizionale di quell'associazione La Cura del Ferro. Nel 1992 fu fatta una legge, la 211, che è stata per lungo tempo l'unica di questo genere, che ha permesso il finanziamento della realizzazione di linee tranviarie, come quelle di Firenze e di Metropolitana, ma anche aggiungo di Filobus, laddove vengono fatte scelte di questo genere, su percorsi protetti. Ecco, occorre una nuova legge 211, perché i finanziamenti del PNRR non sono sufficienti, a dare uno standard di reti non inquinanti del trasporto pubblico. Pensiamo che attualmente siamo circa il 50%, sommando tutte le reti esistenti, rispetto alla Spagna. Ecco, l'obiettivo al nostro avviso è arrivare almeno al livello della Spagna, che ricordiamo alla fine degli anni 70 non aveva niente e quindi non è una missione impossibile. Il secondo filone è quello delle risorse per la gestione corrente. Avete audito a fine settembre le aziende di trasporto, ve l'hanno detto, lo ribadiamo. È necessario che la parte corrente garantita dal Fondo Nazionale Trasporto permetta di assicurare su tutto il territorio nazionale un livello accettabile di offerta del trasporto pubblico. In una delle risoluzioni si parla di livelli essenziali di trasporto. Io vengo da un'esperienza nel mondo delle agenzie ambientali, i LEPTA sono ancora di là da venire, ma insomma siamo fiduciosi. Diciamo che il Fondo Nazionale Trasporto deve essere commisurato in modo che un livello accettabile sia garantito su tutto il territorio nazionale e le risorse regionali e degli enti locali siano aggiuntive, non quello che è successo nel 2010 quando in realtà le risorse regionali se c'erano garantivano un livello minimo. Nella legge di bilancio del 2022 era stato previsto un incremento del Fondo Nazionale Trasporti, vediamo se nella manovra del 2024 vengano confermate quelle indicazioni. Ma noi diciamo che l'obiettivo che ci dobbiamo dare è che il Parlamento si deve dare è quello di arrivare a una dotazione annua del Fondo Nazionale Trasporti per la gestione corrente di almeno 6 miliardi, cioè tornare a livelli ante 2010. Dopodiché va anche detto che naturalmente questi livelli non possono essere seguire, ma tutte le mozioni lo dicano lo storico precedente, perché altrimenti si finanziano in efficienze e sprechi, ma devono essere commisurati con l'offerta di trasporto pubblico, quindi con le diverse realtà, con indicatori di efficienza e di efficacia. Ma non è sufficiente, abbiamo detto reti e gestione corrente, occorre anche un finanziamento adeguato per sostenere il rinnovo del parco autobus. Il Ministero dei Trasporti ci ha ricordato poco tempo fa, giugno del 2022, che l'età media del parco autobus era di 10,4 anni, mentre in Europa è di 7 anni. Questo significa ad esempio che le aziende non riescono a rinnovare neppure gli autobus più inquinanti. Ecco, noi riteniamo che dovrebbe essere assicurato per la parte del rinnovo del parco autobus almeno 2 miliardi l'anno di Fondo Nazionale dei Trasporti. L'ultima osservazione, vi segnalo, vi segnaliamo che come Chioto Club e Campania Clean Cities, dall'altra settimana abbiamo messo a disposizione di tutti, quindi di voi un osservatorio della mobilità urbana sostenibile sulle 18 grandi città italiane, nelle quali potete trovare tutti i dati confrontati nel tempo delle singole città e fra le varie città e le notizie aggiornate quotidianamente su quello che avviene per la mobilità in queste 18 città. Una risorsa a disposizione di tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie mille a lei. Cedo quindi la parola ad Andrea Poggio. Prego. Buongiorno, grazie mille dell'occasione e saluto tutti gli amici che avete convocato insieme a me. Credo che sia molto importante, condivisibile tutte le affermazioni che vengono fatte nelle risoluzioni, anche e soprattutto nella risoluzione, chiamiamola Raimondo, che credo che sia espressione della maggioranza, soprattutto laddove si fa riferimento a l'applicazione di un concetto che è da definire nuovo, importante, dei livelli essenziali di trasporto relativo al trasporto pubblico, ma io chiamerei più opportunamente collettivo o condiviso di linea e non di linea, un livello essenziale di trasporto da garantire in tutte le regioni e in tutte le città italiane. Credo che sia però reticente e utilmente colmato dalle risoluzioni CASU e Ghirra, quando si sottolinea in queste altre risoluzioni l'esigenza di un aumento della spesa pubblica per garantire questi livelli essenziali, altrimenti il rischio è che per equiparare tutta Italia dobbiamo rallentare le aree con un'offerta di trasporto pubblico maggiore per riuscire in qualche modo a sospingere nel tempo le aree più arretrate. Diciamo la verità, l'Italia è più indietro, noi abbiamo una quantità di chilometri di metropolitane nelle città italiane che facendo la somma di tutta Italia è inferiore dell'offerta che troviamo nella sola città di Madrid, non vi tiro in ballo Parigi e Londra ovviamente per carità di patria, ma siccome metà dell'offerta di metropolitana che viene messa a disposizione nelle città italiane è a Milano, e beh questo vuol dire che se fermiamo Milano rimaniamo ancora più indietro rispetto all'Europa, ve l'ho detta come una battuta ma è molto importante, guardate che l'insieme delle risorse messe a disposizione dal PNRR insieme all'eredità degli ultimi anni del Fondo per il Trasporto Pubblico non riesce neppure a garantire la sostituzione dei mezzi, ecco perché è fondamentale un'indicazione al governo di ripotenziare, ripinguare le risorse che vengono messe a disposizione sia per gli investimenti che per i livelli essenziali di servizi e di ricambio dei mezzi in tutta Italia. Solo a questa condizione si può pensare che sia possibile applicare anche in Italia quel utile modo di rilanciare velocemente il trasporto pubblico che è stato adottato, peraltro in alcune realtà anche in italiano penso al sistema di abbonamenti e di bigliettazione integrata che funziona in Trentino Alto Adice e Bolzano ma piuttosto che in alcune città, per esempio e persino per gli abbonamenti studenteschi in una città come Catania, piuttosto che a Genova, piuttosto che il sistema di bigliettazione integrata nell'area partenopea, ecco fare in modo che questi livelli di offerta semplificata, Greppis parlava di biglietti clima, chiamiamoli come vogliamo, ma di offerta semplificata e integrata a sistemi regionali di trasporto si diffonda. Guardate che in Germania l'esperienza è stata fantastica, un recupero del trasporto pubblico molto importante col biglietto regionale equivalente in tutta la nazione a 49 euro al mese, ma ha creato un'offerta, una risposta da parte degli utenti di utilizzo del trasporto pubblico che ha messo in crisi un livello di servizio che è solo per i treni e quattro volte quella che viene offerta mediamente nelle regioni e nelle città italiane. Dire che bastano degli interventi di agevolazione, di promozione dell'abbonamento in Italia da solo ci prendiamo assolutamente in giro, occorre anche questo, integrazione tarifaria, agevolazione dell'offerta. Vi abbiamo mandato un documento in cui riprendiamo alcune delle proposte del nostro rapporto pendolaria, che annualmente monitoriamo l'offerta e le difficoltà dell'offerta del trasporto pubblico quotidiano in tutta Italia e si fa una disamina della realtà degli investimenti e della difficoltà che il nostro Paese ha per recuperare un gap. Accenno solo per concludere, guardate che il livello essenziale di trasporto non può essere come è nell'80% dei casi in Italia comprati l'auto privata e arrangiati, per un semplice motivo, che noi abbiamo più auto di tutti gli altri grandi Paesi europei e purtroppo comprarsi l'auto nuova, non l'auto elettrica nuova, l'auto a combustione nuova costa l'80% in più di quello che costava 20 anni fa. Parlo del livello delle utilitarie. La benzina e il gasolio, facile dare la colpa alle accise che ci sono in Italia, ma è raddoppiata di prezzo dagli anni 2000 ad oggi, costava un euro la benzina quando è arrivato appunto l'euro in Italia e l'accisa era 50 centesimi. Oggi l'accisa è 70 centesimi e la benzina si paga 2 euro al litro. La stessa cosa è successo per il gasolio, metà della popolazione italiana non compra l'auto nuova, quindi potete benissimo attingere le risorse dal bonus auto che non serve assolutamente niente, né a rilanciare il mercato né a offrire l'auto nuova ai ceti meno abbienti. Potete attingere ai SAD, i sussidi ambientalmente dannosi sono secondo il Mase, anche nell'ultimo rapporto del Ministero, più dei sussidi ambientalmente favorevoli. Ci lamentiamo perché aiutiamo le rinnovabili e guardate che noi stiamo foraggiando il petrolio, il metano e il carbone. Aggiungo solo per concludere che se vogliamo fare una politica sociale oltre che ambientale per il trasporto rinnovabile, beh, ci sono i treni con le linee aeree che sono il sistema con il quale si trasporta il 7-8% dei chilometri passeggeri, il 20% delle merci su strada in Italia con un consumo energetico che è pari all'1,5% di tutti i consumi dei trasporti. Quindi è un sistema 5-10 volte più efficiente il sistema elettrico di qualsiasi altro mezzo e sistema di trasporto che sia in uso in Italia in questo periodo. Se volete fare un passo verso il sociale e l'ambientale questo è l'unico passo necessario. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'ultimo intervento per poi seguire gli interventi dei deputati. Claudio Maiulo, prego. Buongiorno, grazie mille, buongiorno a tutti. Io parlo oggi a nome di Transport and Environment che è un po' la casa madre di cui Clean Cities costituisce uno spin-off e saluto anch'io tutti gli amici e colleghi invitati oggi intervenuti. Parto per semplicità sottoscrivendo sostanzialmente tutto quello che è stato detto da Andrea Poggio, da Federico Spadini e da Marco Talluri e quindi cerco di concentrarmi su tre punti chiave per quanto mi riguarda. Allora il primo è questo, con un piccolissimo preambolo, cioè che io penso che per inquadrare questa conversazione, questa discussione bisogna ricordarsi che il trasporto pubblico locale, il trasporto collettivo è la spina dorsale di una mobilità urbana. Do solamente un dato per cercare di situare la discussione, il punto, per trasportare circa 50.000 persone all'ora in una determinata direzione, una città ha bisogno di o una strada larga 180 metri per le automobili, oppure larga 35 metri per gli autobus, oppure larga 10 metri per avere i binari di un tram. Quindi questo ci dà già, credo, la misura del fatto di quanto il trasporto pubblico sia essenziale per riuscire a spostare le persone in maniera efficiente, efficace e effettiva da un punto di vista dei costi e anche inclusiva, che mi porta al primo dei tre punti su cui vorrei soffermarmi. Il trasporto pubblico è sostanzialmente un driver di inclusione sociale, l'accesso a un TPL rapido, capillare e affidabile è essenziale per poter consentire l'inclusione della popolazione. E' vero che l'Italia è il paese con il più alto tasso di motorizzazione d'Europa, si esclude il Lussemburgo, ma in Lussemburgo ci sono molte targhe che non appartengono agli abitanti di Lussemburgo per metterla così in modo elegante. E quindi moltissime persone hanno una dipendenza dall'automobile nelle città italiane, ma è anche vero che ci sono ancora molti italiani che o utilizzano il trasporto pubblico non avendo alternativi, oppure lo farebbero sicuramente se il trasporto pubblico fosse accessibile, fosse capillare e fosse soprattutto affidabile. Federico Spadini ha parlato prima del rapporto Greenpeace su Roma del 2021, ma lo stesso discorso si può fare su pressoché tutte le città italiane, quando ci si muove fuori dalla famigerata ZTL, fuori dal centro storico delle città, l'accesso a un trasporto pubblico efficace comincia a svanire e questo è un problema sociale, prima ancora che un problema di economia di trasporti o un problema di politiche energetiche e dei trasporti in generale. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che il TPL come concetto non è più quello che ci immaginavamo forse 20 anni fa, 30 anni fa, il trasporto pubblico del futuro fa parte pienamente di un quadro della mobilità urbana che è intermodale, vale a dire che si interseca con tutte le altre modalità di trasporto, in particolare con i trasferimenti a piedi e in bicicletta, quindi con la mobilità attiva, ma anche con la mobilità privata, specialmente nelle aree extraurbane per consentire alle persone di compiere i propri spostamenti. Lo vediamo sia nelle grandi città italiane come Milano che hanno una rete di trasporto pubblico più solida, più strutturata, che ovviamente nelle città europee che sono in media più avanti delle nostre, laddove una percentuale elevatissima degli utenti della città si sposta utilizzando più mezzi di trasporto, quindi non compie il proprio spostamento andando al punto A e al punto B con un unico mezzo di trasporto, ma lo fa utilizzandone diversi. Quindi in quest'ottica è anche importante pensare al trasporto pubblico come da un lato ciò che può consentire di connettere pezzi di città che in questo momento sono separati da una pianificazione urbana che ha messo al centro l'automobile per decenni e da cui dobbiamo ovviamente allontanarci, dall'altro lato però come un potenziale che può essere sbloccato e innescato anche ripensandola nel collegamento con le altre modalità di trasporto. E quindi qui faccio un brevissimo appunto e una delle nostre raccomandazioni è quella di rendere finalmente operativo il fondo per le ciclovie urbane intermodali che è stato istituito con la legge di bilancio dell'anno scorso, con una dotazione davvero minima di risorse e quindi invece dare abbastanza risorse in modo che sia possibile sbloccare questo potenziale del trasporto pubblico locale in particolare. Il terzo punto su cui vorrei soffermarmi ha a che fare con le esigenze di decarbonizzazione del sistema dei trasporti, ma anche con l'esigenza di ripulire l'aria delle nostre città, come sapete benissimo credo le città italiane, in generale l'Italia è uno dei paesi con la peggiore qualità dell'aria in ambito urbano, delle 30 città con i più alti livelli di PM2.5 la metà sono in Italia e come sapete benissimo diverse regioni italiane sono state di fatto costrette da varie sentenze della Corte Europea di Giustizia a aggiornare o addirittura a sviluppare dei piani regionali per l'aria pulita, per il risanamento dell'aria che vanno a richiedere una serie di interventi per la riduzione del trasporto privato, quindi dell'utilizzo delle automobili inquinanti ovviamente e invece con il potenziamento delle altre modalità di trasporto. Quindi per fare tutto questo uno dei tasselli importanti del puzzle è l'elettrificazione della flotta di autobus. Come diceva Marco Talluri ovviamente il trasporto su rotaia è essenziale specialmente per trasportare i grandi numeri ma gli autobus sono ancora un pezzo fondamentale del trasporto pubblico in molte città specialmente nelle città medio piccole italiane che come sapete sono la maggioranza e quindi è essenziale che ci siano queste risorse e che le risorse in questo momento sono state allocate nel PNRR non sono sufficienti a farlo quindi ci associamo alla richiesta puntuale fatta da Kyoto Club di mettere a bilancio almeno 2 miliardi di euro all'anno per operare questa transizione, questa elettrificazione del TPL. Voglio parlare brevemente dei costi perché ovviamente quando si parla di fare investimenti pubblici la prima risposta che viene data è ma dove troviamo le risorse? Un indizio l'ho già dato prima Andrea Poggio ma aggiungo, stiamo parlando di 2 miliardi, stiamo parlando di un fondo nazionale trasporti di circa 5 miliardi che dovrebbe aumentare perché anche solo per raggiungere i livelli che aveva 15 anni fa faccio presente che nel corso dell'anno 2022 questo paese ha speso 9 miliardi di euro quantomeno ha avuto 9 miliardi di euro di mancati introiti per la riduzione delle accise temporanea per venire incontro all'impennata dei costi alla pompa peraltro l'analisi che è stata fatta è che il 68% di quelle risorse sono andate ai più ricchi cioè a quelli che possiedono i veicoli più, che fanno più chilometri, che possiedono i veicoli che consumano di più e che quindi ovviamente hanno avuto una maggiore fetta di questo sgravio 9 miliardi di euro solamente per ridurre un pochettino il costo della benzina e del gasolio alla pompa mentre invece noi stiamo parlando appunto di potenziare quella che abbiamo definito come la spina dorsale della mobilità urbana ma un altro dato che noi abbiamo raccolto nel nostro rapporto non è un paese per bici l'anno scorso è che per il decennio 2020-2030 e questa è una stima altamente conservativa lo Stato italiano ha messo a bilancio qualcosa come 98 miliardi di euro nel suo complesso per il settore auto, sia per quantità delle infrastrutture che per appunto il bonus auto e altre risorse quindi i soldi ci sono, il problema è come li utilizziamo e se riusciamo a renderci conto che quando parliamo di riconversione ecologica per esempio del settore del comparto automotive parte di questa riconversione deve anche passare dallo sviluppo e dal sostegno di una filiera italiana della produzione di mezzi a zero emissioni non solo di auto elettriche ma anche per esempio di autobus a zero emissioni faccio un'ultimissima postilla per quanto riguarda la questione della qualità dell'aria e in particolare le zone a basse emissioni quindi aria B a Milano, fascia verde a Roma, scudo verde a Firenze e così via in molti casi queste zone a basse emissioni che si stanno moltiplicando in tutta Europa sono nelle città italiane il prodotto appunto di una necessità di ripulire rapidamente l'aria e quindi ovviamente però hanno, se implementate da sole possono avere un impatto perverso nel senso che tendono ad avere un impatto maggiore sui veicoli più inquinanti che tendono a essere quelli più vecchi che tendono a essere quelli posseduti dalle persone con migliore disponibilità economica quindi è essenziale ed è anche una questione di responsabilità politica io ritengo che venga fatto uno sforzo a livello centrale per sostenere questi sforzi che hanno luogo a livello invece cittadino, a livello metropolitano quindi per esempio finanziando degli schemi di rottamazione a fronte invece della fornitura di abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico per chi abbandona l'automobile così come ovviamente potenziando il trasporto pubblico locale come alternativa solida che può consentire alle persone di abbandonare seranamente una vecchia auto inquinante di smettere di inquinare se stessi e gli altri e di scegliere una modalità di trasporto più sostenibile con questo concludo e vi ringrazio ancora Grazie a lei, passiamo agli interventi dei deputati se è prontato il deputato a caso Grazie Presidente, grazie davvero agli interventi molto utili, importanti ci permettono di inquadrare ancora meglio questo tema e io penso che, l'abbiamo detto nel primo ciclo delle audizioni lo rinnoviamo anche adesso ci rendiamo conto come il fatto che voci anche fra loro differenti che vengono da esperienze, competenze, posizionamenti differenti però abbiano questa consonanza nell'inquadrare la vicenda ci consente di poterla affrontare per quello che è io penso che ci siano alcuni aspetti molto utili, importanti su cui penso che saranno fondamentali tutti i rapporti che sono stati in parte annunciati, in parte presentati penso al rapporto pendolare di lega ambiente ma anche ai report prodotti da Greenpeace, dal Kyoto Club da Italia Nostra e da Transport and Environment quello che penso però, diciamo che sia importante innanzitutto, l'impatto sulla salute abbiamo sentito parlare di 11 mila morti abbiamo sentito parlare di una situazione e non ci rendiamo conto di quanto poi sia estremamente collegato l'investire, l'intervenire sul trasporto pubblico locale sulla qualità e sulla capacità anche di innovare con quella che poi è la qualità della salute nelle nostre città e quindi quando pensiamo anche alla mole di investimenti necessari è chiaro che stiamo pensando a un investimento che ha anche una ricaduta da questo punto di vista e poi, devo dire, gli interventi ci hanno mostrato alcune tendenze una, che io considero molto preoccupante lo affronteremo in Commissione anche occupandoci del tema del trasporto merci è di questa tendenza in cui noi dopo aver conosciuto anni di cura del ferro stiamo andando nella direzione opposta rispetto alla cura del ferro e questo è un rischio gravissimo i numeri che ci ricevano 30.000 km di autostrade gueno 15.000 km di rete ferroviaria ci danno l'idea di come si sta andando in direzione opposta e badate, non è un'ottica di critica a questo Governo nello specifico perché è chiaro che quando queste tendenze si affermano sono delle traiettorie più ampie rispetto a quello che possono essere 12 mesi di reazione di Governo però il rischio qual è? Il rischio è che noi stiamo andando nella direzione opposta di quella in cui dovremmo andare sia per quanto riguarda il trasporto delle persone che per quanto riguarda il trasporto delle merci e lì invece dobbiamo capire come cercare di inserire dei correttivi per garantire naturalmente che ci sia la possibilità di costruire uno schema efficace ma uno schema efficace che tenga conto le possibilità e poi quello sul finanziamento cioè quando dal Kyoto Club ci viene rappresentato che diciamo i 5 miliardi stabilizzati sono un miliardo meno di quello che era 10 anni fa un miliardo in meno rispetto a 10 anni fa in realtà sono 3 miliardi in meno per quella che è stata l'inflazione per quello che è stato il valore quindi noi abbiamo avuto un fenomeno che non solo non abbiamo mantenuto ma abbiamo finanziato molto meno ora la vera questione è come riuscire a innalzare questo tema da una complessità di situazioni locali la mobilità di Roma la mobilità di Milano la mobilità di Torino tenendo conto va benissimo Italia Nostra sottolinearlo che ci sono delle specificità c'è la specificità della capitale c'è la specificità delle grandi città c'è la specificità delle aree locali però c'è una questione di fondo che noi dobbiamo riuscire a portare avanti insieme e qui il senso della mia domanda e le associazioni che non è una questione locale ci sono le specificità locali ma c'è una tendenza complessiva nazionale che ci manda nella direzione opposta a quella che si sta facendo in Europa il dato che veniva ricordato per quanto riguarda il numero di chilometri metropolitane in Italia rispetto alla sola Madrid è agghiacciante da questo punto di vista per arrivare alla domanda due aspetti il primo che cosa noi abbiamo avviato questo ciclo il lavoro che si sta facendo tra forze di opposizione e di maggioranza speriamo poi di poterci confrontare al governo va proprio nella direzione cercare di aprire un focus parlamentare su questo tema e cercare di capire cosa si può immettere nella discussione anche per alzare il livello di consapevolezza sulla staticità del tema però da questo punto di vista è anche l'impegno che già viene fatto diciamo singolarmente i rapporti ma collettivo della società civile per cercare di alzare il livello di consapevolezza sul tema e poi la seconda questione invece puntuale i fondi servono più soldi l'abbiamo sentito l'altra volta 2 miliardi di euro almeno solamente 900 milioni per i contratti 700 milioni per l'adeguamento per quanto riguarda l'inflazione senza considerare le ulteriori necessità senza considerare gli ulteriori bisogni in un quadro di difficoltà che è quello che conosciamo e non dobbiamo ricordare quindi forse anche il contributo del mondo associativo che studia elabora rapporti prepara studi è al di là delle idee di principio che io spero ci possano vedere tutti d'accordo io penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna spostare la leva dai sussidi ambientalmente dannosi ai sussidi ambientalmente favorevoli o che bisogna cercare di rimodulare quella che è la pensione delle accise per far pagare meno diciamo il carburante e per poi entrare nelle condizioni di utilizzare le risorse che lo Stato ottiene dal trasporto privato per far funzionare meglio il trasporto pubblico locale potete aiutarci anche in termini puntuali ad esempio per quanto riguarda l'aspetto dei trasporti a identificare partendo proprio dai vostri rapporti quelle che sono le forme di tra virgolette consentitemi una parola che spreco che viene fatto cioè dove probabilmente noi stiamo magari investendo delle risorse per sostenere dei settori e tutte le risorse pubbliche che servono a sostenere il lavoro l'occupazione servono però noi dobbiamo anche sapere che se noi non siamo incapaci di convertire quelle risorse che stiamo utilizzando per sostenere settori che sono destinati a non avere un futuro e a non competere per non spostarle invece laddove ci può essere un futuro e poi portare quei lavoratori quel servizio produttivo a convertirsi per poter essere parte anche dal futuro noi in realtà le stiamo spiegando da questo punto di vista se potete aiutarci anche in termini puntuali perché penso che il passo in più che potremmo fare con questo lavoro è non solo chiedere più risorse ma cominciare anche a identificare tutti insieme da dove prenderle Grazie Deputato Casu Raimondo Grazie Presidente ringrazio anch'io gli intervenuti per i loro contributi sicuramente utili poi se ci sarà modo di poter consegnare anche qualche documento scritto sarà oggetto ovviamente di ulteriore approfondimento anche in sede dei prossimi appuntamenti di questa commissione riguardo a queste risoluzioni noi abbiamo posto al centro dei lavori della commissione e quindi anche di questo parlamento la questione del trasporto pubblico locale da qualche intervento insomma di questa mattina si è percepito sicuramente l'attenzione ma e su questo voglio essere chiaro almeno per quella che è la posizione di Fratelli d'Italia che sostenere in tutte le forme il trasporto pubblico locale e il sistema di TPL così come insomma lo abbiamo anche definito quando abbiamo incardinato le risoluzioni non significa in alcun modo colpevolizzare chi utilizza l'automobile né tantomeno da un certo punto di vista criminalizzarlo mi spiego noi oggi abbiamo uno dei settori più all'avanguardia della nostra nazione che è quello dell'automotive che è messo in forte discussione e ci sono migliaia e migliaia di posti di lavoro a rischio per un'impostazione fin troppo ideologica dell'Unione Europea rispetto ai temi della transizione ecologica su cui ci dobbiamo riflettere rispetto a un approccio che noi ad esempio non condividiamo noi sulla transizione ecologica diciamo sì giusta ci deve essere però deve essere anche una transizione economica e sociale che accompagni le nostre imprese che non le subissi di tasse e per cui su questo dobbiamo assolutamente porre l'attenzione e sono due discorsi il trasporto pubblico locale e la salvaguarda di un settore strategico per noi che non si devono sovrapporre e non devono essere in concorrenza tra loro un approccio di questo genere a nostro modo di vedere è sbagliato e lo dico perché lo dico perché nell'ambito ovviamente del trasporto pubblico locale noi invece dobbiamo interrogarci in particolare rispetto ai temi ambientali e quindi sul parco mezzi oggi a disposizione in tutta la rete del sistema nazionale come renderli come renderli meno inquinanti possibili interrogandoci anche una volta per tutte forse definitivamente sul rapporto rispetto all'elettrico perché anche su questo tema l'elettrico abbracciare una sola tecnologia significa metterci alle dipendenze soltanto di alcune nazioni peraltro straniere mentre invece la soluzione dà anche in questo caso seguire quella del mix tecnologico e quindi di tutte le soluzioni che ci sono e quindi magari mi piacerebbe capire anche da chi è intervenuto che posizione ha rispetto alla questione ad esempio dei mezzi filubus rispetto invece a quelli a batterie elettriche per sapere quali sono più utili quali sono veramente meno inquinanti su quale tipo di sistema si può intervenire e potenziare specialmente nelle grandi città ecco ci sono degli interrogativi su cui è bene riflettere però tenendo bene a mente che lavorare sul trasporto pubblico locale non significa mandare al macello tutta una serie di settori ben organizzati e penso principalmente a quello dell'automotive grazie grazie a lei deputato affeda grazie presidente e attraverso di lei ringrazio i nostri auditi per gli spunti che hanno dato e di cui mi sento di dare un'ampia condivisione perché e lo dico senza polemica dopo l'intervento che mi ha preceduto io credo che noi dobbiamo avere una visione in quanto rappresentanti politici di quello che sarà lo sviluppo futuro della nostra azione e delle dinamiche che passano per la nostra salute quella dei nostri cittadini dei nostri familiari quindi l'approccio di attenzione a quelle che saranno le interazioni tra le problematiche della mobilità e quelle dell'ambiente non sono un approccio ideologico ma sono un approccio di buonsenso la matrice di inquinamento dell'aria il traffico il congestionamento gli spazi che debbono essere riservati alla circolazione stradale lo ha detto l'ultimo intervento che ha preceduto il relatore parlando proprio dei metri lineari di strada per spostare 50.000 persone rispetto a quelli fra il movimento con le auto e quello con un mezzo di mobilità urbana quindi io su questo trovo solamente un buon senso e non trovo chiaramente un approccio ideologico oltretutto perché è vero che noi siamo orgogliosamente produttori di una filiera dell'automotive che ha dato lusso all'Italia pensiamo ai marchi più prestigiosi a quelli del lusso a tante aziende però poi abbiamo visto che non aver seguito le tendenze di un mercato che oggi è globale ha portato le nostre aziende in difficoltà e quindi in maniera non adeguata all'evoluzione tecnologica oltretutto noi abbiamo questa filiera ma non dobbiamo mai dimenticare che non abbiamo la materia prima che muove questi mezzi ossia le fonti fossili ma potremmo essere ampiamente dotati stranamente lo siamo almeno della Germania delle fonti rinnovabili avendo più sole se non altro rispetto ai paesi del nord Europa quindi interpolare queste relazioni capire che noi siamo dipendenti sia a livello economico quando si pensa a un modello che tante volte evoca l'orgoglio nazionale e quindi essere dipendenti dal petrolio sicuramente non ci giova e se non abbiamo capito in un momento come questo in cui il petrolio che non ci abbiamo ci viene fornito da altre nazioni con paesi che sono in conflitto e che ci portano a dover sottoporre i nostri trasportatori ma i produttori qualsiasi a prezzi sopra i 2 euro insomma ci dovrebbe far capire che l'orientamento deve essere più ampio e più a lungo termine quindi io credo che gli spunti che abbiamo sentito oggi sono molto importanti e penso che li dovremo valutare proprio scefri da qualsiasi pregiudizio politico e di alta natura perché forse saranno queste le linee non forse ce lo dicono in altre nazioni sono queste le linee verso cui sta andando il mondo che l'Italia non può e si investita a seguire grazie Presidente grazie a lei chiedo se vi siano altri deputati che intendono intervenire se no ridò la parola ai nostri relatori chiedendovi di stare in un tempo avete parlato fra i 7 e gli 8 minuti a testa quindi dai 2 ai 3 minuti adesso per le risposte ai colleghi ricordandovi che potete anche integrare con delle memorie scritte anche allegando dei dati che avete tutti grazie per il contributo avete dei dati che possono essere preziosi per il proseguo dei lavori quindi riprendiamo da Federico Spadini Sì grazie grazie per gli interventi per averci ascoltato e sicuramente vi faremo avere almeno da parte di Greenpeace tutti i riferimenti dei rapporti che io ho menzionato che riportano i dati e le analisi che di fatto diciamo nei contenuti nelle prospettive sono le stesse che i colleghi qua presenti delle altre organizzazioni hanno presentato quindi riconosco anche io che sicuramente c'è una convergenza e spero che questa convergenza diciamo verso alcuni elementi chiave appunto sicuramente il tema degli investimenti e di dove andare a trovare le risorse economiche e finanziarie per sostenere uno sviluppo ulteriore del trasporto pubblico è un tema chiave e sono uscite già diversi suggerimenti in un certo senso sappiamo appunto che tutte le nostre organizzazioni hanno delle posizioni chiare rispetto ai ai SAD rispetto al al tema degli extra profitti per esempio delle aziende del settore fossile maturati e schizzati alle stelle non solo durante lo scorso anno ovviamente ma questo questo tema è stato lampante diciamo nel momento in cui è scoppiato il conflitto in Ucraina o le risorse che si possono andare a intercettare riducendo appunto dei meccanismi tipo il bonus auto che vanno a incentivare ulteriormente la mobilità privata a discapito di altre forme di mobilità più sostenibile pubblica condivisa e più facilmente accessibile da parte nostra ovviamente c'è disponibilità diciamo a collaborare a fornire ulteriori appunto soluzioni ulteriori spunti come dire di indagini ulteriori dati diciamo non ho non ho non entrarei ancora nel dettaglio sicuramente depositeremo una nostra una nostra memoria e penso che ecco anche riprendo un po' l'ultimo argomento non non credo che in questa sede siano state espresse delle posizioni ideologiche contro il come dire o meglio colpevolizzanti verso le persone che utilizzano l'auto nei che si spostano l'automobile sono state espresse più delle considerazioni penso su un sistema è innegabile che il sistema di trasporto in Italia sia profondamente incentrato sull'utilizzo dell'automobile privata perché questa è la forma che ha preso dopo come dire decenni di investimenti e di politiche che i nostri studi diciamo hanno ampiamente dimostrato penso che ecco questo elemento vada visto anche in un'ottica più ampia ovviamente la protezione come dire delle persone che sono per esempio impiegate nel settore automotive anche in quello della componentistica particolarmente diciamo forte in Italia deve essere anche rivista in una prospettiva diciamo più ampia di un discorso a che fare con una transizione ecologica che non riguarda solamente il settore automotive ma riguarda in generale il settore dell'energia ma anche di più oggi mentre diciamo parlavamo qualche minuto fa è uscita la nuova enciclica di Papa Francesco questa enciclica è molto importante ne parleremo tutti oggi nei prossimi giorni in tutti i giorni del mondo c'è proprio un punto sul fatto che molto spesso lo spauracchio come dire della perdita dei posti di lavoro viene utilizzato sapientemente per è andata via la voce non sentiamo più io passo la parola per non prendere ulteriore tempo e per lasciare i miei colleghi per replicare grazie mille faccio parte del suo intervento perché è mancata la voce ma le ringrazio aspettiamo il suo contributo anche scritto grazie Massimo Montebello dunque vorrei concludere semplicemente riportando che nella evoluzione tecnologica per così dire è nato il motore elettrico e poi il motore endotermico quindi questo vuol dire che la complicazione del motore endotermico è stata per poter dare una migliore efficacia al sistema di trasporto che nulla a che vedere con l'efficienza faccio questo ragionamento semplicemente per dire che una delle battute che c'era negli anni 60 nel boom dell'automobile era che l'auto elettrica esiste l'auto elettrica è più efficiente c'è un piccolo problema c'è il problema della prolunga e quindi questo semplicemente per dire che alla domanda del perché Italia Nossa per esempio si sia resa conto dell'importanza del filo è solo semplicemente in quanto al fatto che che cosa ci sia ad alimentare il filo quasi quasi non entriamo nel merito cioè può essere petrolio nucleare idraulico idrico insomma rinnovabile muline a vento tutto quello che volete l'importante è quello che arriva al mezzo di trazione quindi nel momento in cui il mezzo di trazione elettrico quindi da un punto di vista energetico più efficiente viene alimentato però a batteria con la eliminazione del filo questo significa perdere significa perdere quello che è il concetto di efficienza della trazione elettrica vedo che qualcuno non è d'accordo comunque è così cioè la batteria ha delle ripercussioni di cui dopo non sappiamo anzi è meglio che non ne parliamo per nulla morale del discorso alla domanda se il trasporto elettrico debba essere col filo la risposta per quanto riguarda l'Italia nostra è sì sì ai filobus sì ai tram col filo non no agli elettrobus no a colori quali spacciano per evoluzione ambientale ciò che è soltanto un modo diverso anche dal punto di vista economico finanziario qualcuno l'ha detto di come dire di trattarci male noi eravamo alla ai vertici di quello che era la tecnologia e ferroviaria e automobilistica un'altra piccola considerazione sulle merci ho parlato del nodo di Roma anche perché non è solo ed esclusivamente il TPL fine a se stesso il TPL e quindi i binari che utilizzano il TPL risentono di tutto quello che c'è al contorno per risolvere il nodo di Roma c'è bisogno di una situazione di uno studio particolare la chiusura dell'anello e via discorrendo che secondo me il MIT farebbe bene ad approfondire insieme ad EFS grazie grazie a lei passiamo allora a Marco Talluri prego sì nei due minuti che sono stati dati vorrei sottolineare un aspetto che è contenuto nella memoria che abbiamo depositato e cioè che i ragionamenti che dobbiamo fare la discussione che dobbiamo fare si devono basare sui dati soprattutto sui dati oggettivi non credo che abbiamo bisogno di battaglie ideologiche e nessuno redofaccia battaglie ideologiche dobbiamo prendere atto che le nostre città hanno bisogno di cambiare di mobilità e che come è stato detto ripetutamente il trasporto pubblico è imprescindibile il trasporto pubblico non è né di destra né di sinistra né sopra né sotto è un mezzo che garantisce di trasportare di spostare masse di persone e nelle nostre città in particolare quelle più grandi è indispensabile dobbiamo discutere non voglio entrare sul discorso filobus bus elettrici altro vorrei sottolineare però cercavo di dirlo nel primo intervento che la efficacia del trasporto e la sua attività dipende dalla regolarità e dall'intensità del servizio questo significa che io posso avere un filobus un tram un bus elettrico e questo è attrattivo nel momento in cui viaggia su un percorso interamente protetto non è la stessa cosa il tram della linea 1 di Firenze che citavo prima o un tram che si accoda al traffico perché in sede promiscua quindi va bene il tram va bene il filobus va bene il bus elettrico però deve essere messo in condizione di passare in modo regolare e con estrema frequenza quantità e qualità questo è il io ho lavorato per quasi 30 anni in un'azienda di trasporto è il cuore della possibilità di offrire un'alternativa alle nostre città è la stessa in tutta Italia e ovunque questo vale per le grandi città ho trovato interessante che nella risoluzione di Raimund ad esempio si parli di area a domanda debole e di servizi a domanda ecco io a Firenze l'Ataf a metà degli anni 90 ha sperimentato fra la prima in Europa il servizio di personal bus si ne potrebbe discutere non sono questioni ideologiche si tratta di trovare per le singole realtà le soluzioni migliori e ripeto se il trasporto pubblico e la mobilità attiva aumentano la percentuale di shift modale chi continuerà giustamente perché è necessario anche continuare a spostarsi in macchina viaggerà meglio grazie e buona giornata grazie a lei passiamo quindi ad Andrea Poggio sì grazie vi ho già mandato una memoria scritta ovviamente contenuta nei temi che erano stati individuati dalle risoluzioni che ci avete mandato quindi ci siamo fermati lì ovviamente ci si chiedeva degli esempi puntuali ne faccio uno un esempio puntuale di cosa sarebbe più opportuno ridurre come finanziamenti ambientalmente dannosi e che cosa ripotenziare invece come o introdurre come novità per gli incentivi verso forme ambientalmente virtuose faccio un esempio molto puntuale l'ATM di Milano come sapete è una delle aziende di trasporto pubblico più elettrico che ci sia in tutta Italia perché avendo metropolitana tram filo bus treni grazie anche ai passanti ferroviari a più trasporto elettrico ebbene la scelta di Milano è stata quella di acquistare soltanto energia elettrica rinnovabile quella già prodotta senza bisogno di nuovi impianti usando energia elettrica rinnovabile l'energia elettrica la compra più cara del prezzo di mercato mentre gli autobus diesel che in circolazione a Milano se al di sopra diciamo dopo l'Euro 4 ricevono un finanziamento una restituzione sui come tutto il sistema dell'autotrasporto una restituzione delle spese in accisa in forma di defiscalizzazione quindi pagano il gasolio molto meno di quello che paghiamo noi mortali vi sembra onesto e giusto una cosa di questo genere? beh se si doveva incentivare in mezzo o meno inquinante noi stiamo incentivando anche prendendo soltanto l'ambito del trasporto pubblico il sistema più inquinante l'elenco dei SAD l'avete a disposizione fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quello di lega ambiente ne numera molti di più non pare a 22 miliardi ma pare quasi a 40 miliardi TPL tutti i costi contro gli automobilisti no guardate noi all'interno non parliamo soltanto di trasporto pubblico parliamo di trasporto collettivo ma fatto anche da privati ci sono le ferrovie anche anche nell'offerta non trasporto pubblico anche trasporto pubblico non di linea guardate che i taxi quando si sono convinti a diventare ibridi lo sono diventati i primi in tutta Italia quando tutti quanti difendevano il diesel adesso succederà la stessa cosa anche per l'elettrico dei taxisti sono tra i primi in Italia ad aver introdotto il sistema di servizi di car sharing proprio fatto a nome di lega ambiente quindi ideologia contro l'auto proprio non ne ho affatto semmai mi pongo il problema che l'auto privata come mezzo universale di trasporto guardate che penalizza ormai metà degli italiani che sono ovviamente quelli che guadagnano di meno e qui parliamo ancora di auto a combustione di benzina di gasolio di diesel quella roba lì è finita non è più possibile avere più automobili che patenti come auto di proprietà non sarà quella la soluzione di trasporto per il futuro perché? ma perché i prezzi lo dicono e ne parlano chiaro la gente non ci sta più dentro non ne può più e quindi dobbiamo offrirgli un'alternativa grazie grazie a lei arriviamo ad Andrea Poggio prego no sono ancora io Andrea Poggio sì no è vero le stavo ridendo la parola perdono Claudio Maiulo perdonate ho avuto una crisi di identità per un nanosecondo grazie cerco di essere anche io breve sono insomma sono state sollevati dei temi estremamente interessanti e anche complessi quindi provo a rispondere intanto alla prima domanda dell'onorevole caso dove prendere le risorse e come voi sapete molto meglio di me la cosa più complicata quando si fa una proposta diciamo di modifiche legislative è quella di individuare le coperture ma per dare un elemento diciamo per approfondire una cosa che ho detto prima l'estate dell'anno scorso come campagna crisis abbiamo lanciato una piccola campagna che abbiamo chiamato basta bonus con l'hashtag 2 miliardi sono 2 miliardi di euro che sono stati messi a bilancio per i 3 anni dal 2021 al 2023 per finanziare l'acquisto di automobili una parte rilevante di queste automobili a combustione interna alcune ibride e una parte minoritaria elettriche e sono risorse che potevano essere spese o che potrebbero essere spese con altre finalità con 2 miliardi di euro abbiamo fatto qualche calcolo e ci siamo resi conto che si può per esempio finanziare un abbonamento gratuito al trasporto pubblico per tutte le famiglie con difficoltà economiche si possono acquistare 5 mila autobus elettrici per le città italiane solo per fare alcuni esempi si possono per esempio rendere ciclabili quasi come Amsterdam tutti i capoluoghi di provincia e di città metropolitane italiane con 2 miliardi di euro quindi le risorse si possono per esempio recuperare lì peraltro voglio solo segnalare che nonostante questa iniezione di risorse il mercato automotive in Italia è a picco e anche molto più che nel resto d'Europa nel resto d'Europa è calato del 4% circa tra il 2022 e il 2021 in Italia del 10% quasi quindi di fatto l'effetto è stato sostanzialmente sostanzialmente nullo e mi ricollego quindi sulla questione diciamo della criminalizzazione degli automobilisti per carità faccio un discorso su domanda e offerta per quanto riguarda il lato della domanda il diritto alla mobilità significa diritto di poter scegliere tra diverse alternative di trasporto e significa liberarsi dalle catene della dipendenza da un singolo mezzo di trasporto in questo momento nella stragrande maggioranza dei casi gli italiani dipendono dall'automobile privata per potersi muovere anche in un contesto urbano questo è una violazione del diritto alla mobilità perché moltissimi di questi italiani magari se potessero se avessero l'alternativa la possibilità preferirebbero muoversi con l'autobus addirittura in alcuni casi in bicicletta visto che eSport ci ricorda che il 60% degli spostamenti in questo paese è fatto entro i 5 km quindi facilmente diciamo raggiungibili con una bicicletta adesso ci sono anche a pedalata assistita quindi ancora più semplice se uno vuole farlo è una questione di scelta per quanto riguarda il lato dell'offerta la verità è che non è diciamo una crociata anti-automobile che sta a remettere in difficoltà il comparto automotive italiano è il mercato che sta andando in quella direzione e noi stiamo rimanendo indietro proprio per una pervicace pervicace attaccamento a quel modello di sviluppo lì e aggiungo solamente un'ultima cosa ricordando anche che come diceva l'onorevole Fede noi possiamo produrre energia rinnovabile in casa nostra mentre invece il petrolio lo dobbiamo importare penso che l'abbiamo visto nella crisi con la Russia ricordo solamente un dato cioè l'efficienza di un veicolo elettrico in questo momento è dell'87,91% vuol dire che l'87,91% dell'energia che viene messa in un'auto elettrica finisce alle ruote per quanto riguarda un motore a combustione interna quella cifra è il 16-25% ok quindi anche a livello di efficienza stiamo andando stiamo andando in quella direzione mi fermo qui però grazie mille e ovviamente anche noi diremo scusate perché abbiamo delle altre audizioni se no avremmo anche continuato avrei anche concesso anche più minuti ma attendiamo i vostri documenti delle vostre relazioni richieste anche dai colleghi perché molto interessanti grazie mille per il vostro contributo è seduta sospesa grazie mille grazie mille